Io ho visto una bellissima partita ieri sera, il Napoli ha giocato splendidamente, veramente sono entusiasta, una partita straordinaria, adesso bisogna firmare e non fare chiacchiere. Io ho la penna per firmare, abbiamo trasmesso al Presidente da molto tempo il nostro accordo, mi sono un po' stancato di parlare su questo tema, quindi io sono pronto a firmare, firmare la transazione, la convenzione e quindi andare avanti così come ci siamo più botti lì. Parlare solamente è diventato stancato, quindi io ho la penna per firmare e mi siederò appena siamo tutti quanti pronti a firmare, noi lo siamo e ci auguriamo che oggi lo sia anche il Presidente.